Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale Finalmente il video del giveaway che ho rimandato tipo da mesi, prima ancora che mi sposassi perché ho avuto qualche problemino e perché in realtà non sapevo neanche se farlo questo giveaway visto che il primo ho avuto un pochino di problemini vabbè questo è un altro discorso quindi visto che non sono stato che siamo conosciuti tantissimo ultimamente sul canale volevo ringraziarvi e volevo appunto mandarvi dei premi a chi vincerà il vincitore è stato solamente uno ho preso tante cosine bellissime per voi sia di cartoleria e sia anche di creatività ci saranno anche delle mie creazioni che ho fatto apposta per voi non vedo ora che le vediate e subito dopo questa breve introduzione vi farò vedere appunto le creazioni le regole per partecipare sono sempre le stesse quindi iscrivetevi al canale, altra la lampanella per ricevere le notifiche mettete mi piace a questo video, commentate con hashtag partecipo e soprattutto vorrei che mi scrivesse mia cosa vuoi? non possiamo giocare la mano sotto dei commenti in cui appunto mi date dei consigli per migliorare o magari anche delle idee nuove per fare dei video nuovi di EY, sulla casa, quello che più mi piace poi mettete mi piace a questo video condividerlo su Facebook, su Instagram, su Twitter, su qualsiasi piattaforma avete più gente vede questo video, più gente ha la possibilità di iscriversi e anche magari di vincere anche se ho citato il rating, c'è stato quello che già mi segue comunque, ci sarà un mese questo giveaway e poi una volta che appunto finirà il mese un commento verrà estratto da un sito che ancora non ho deciso quale sarà però sempre di quei siti che saranno i commenti così random quindi, niente, sto parlando già troppo ho già detto tutto se ho dimenticato qualcosa ve lo scrivo giù nella descrizione tanto comunque troverete anche in tutte quante le regoline per partecipare io vi ringrazio ancora una volta per l'affetto che mi dimostrate sempre mi raccomando, condividete questi miei video così anche più gente potrà partecipare a questo canale e seguire questo canale pazzo e quindi, niente, vi lascio il video dei premi e vi mando un prossimo bacione ciao! allora, quindi ho preso questi sticker bellissimi che sono fatti tutti quanti appunto con le piantine che carini, sono bellissimi appena li ho visti mi sono subito piaciuti poi questa piccola ragazzi vado veloce perché sono tantissimi e questa piccola agendina, quadernino con l'unicorno bellissimo questi sticky note questi altri sticky note poi, tra tipida abbiamo delle ricariche della colla a caldo questi glitter che sono tutte quante delle pagliuzzette guardate che belline e colorate poi abbiamo la una colla glitter che in realtà dalla fotocamera sembra blu ma è viola non so perché sembra blu dalla fotocamera abbiamo degli stampi queste due zampine bellissime questo qui che ho fatto io ed è un ciondolo con l'albero della vita ok poi di stampo abbiamo questo cammeo che sempre ho fatto io poi questa chiave che ho fatti appositamente per i giveaway non certo per venderli quindi non saranno super perfetti ma ho fatto nello stesso perché sono stati fatti da me per voi questo qui sempre fatto credo che si chiami così mi sono anche dimenticata come si chiama e penso che vi metto la qualcosina di minuteria e forse qualche altro stampino se riesco a farlo nel frattempo poi veniamo alle mie creazioni abbiamo dei gessetti profumati che adesso in questa confezione non si vedranno mai questi servono per i cassetti per gli armadi questi altri che sono a tema tipo biscotti colazione guardate che carini e profumano ancora tipo li ho fatti un anno fa poi abbiamo due altre mie creazioni carine carine che sono dei segnalibri fatti così con gli abbassalingua colorati e delle creazioni in fimo poi di fimo abbiamo ancora questa collana con il cuore poi abbiamo questa altra collana sempre di fimo in fimo forse abbiamo finito ah no abbiamo tutti gli orecchini allora orecchini questi con il quadrifoglio orecchini con la stella marina orecchini con la margheritina e orecchini con i cuoricini che adesso non si vedranno mai perché sono troppo chiari poi abbiamo altre creazioni queste sono le collanine che adesso mi sto ricordando come si chiamano che sono andate di moda quest'estate che andavano anche di moda negli anni 90 perché sono quelle strette così poi quest'altro braccialetto fatto sempre da me marino o marinaio poi abbiamo quest'altro bracciale con l'ancora questo simil pandora ok con la resina con lana con il cameo spilletta con il joystick che non si vede un cacchio ok poi altra collana sempre che ho fatto io ragazzi non vedete le bustine che le ho prese con gli stampi qua con le stampe non si vede un cacchio ok poi 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 altra spilletta molto carina poi spilletta altra la luna con varie sfumature sailor jupiter bellissima altra spilletta ispirata all'estate queste sono tutte quante creazioni che io ho fatto e ho fatto vedere anche in alcuni video se volete vedervele mentre poi ce ve lo scopriamo poi altra collana con il cameo con Alice nelle prese delle meraviglie questa è bellissima porta chiave a tema marino porta chiave a tema inside out carino e poi abbiamo e poi abbiamo dei pacchettini di creazioni che adesso non vi faccio vedere sono certo non vi faccio vedere singolarmente perché se no non finiamo più sono tutte creazioni da aggiustare cioè non da aggiustare da assemblare praticamente sono tirate dallo stampo e via vedete sono tipo per esempio questa non sono assemblate quindi ne vorrete fare che cosa volete stampi se volete assemblarle voi come più vi piace siete liberi di fare quello che volete questo che è più grande e queste che sono più piccoline e sono dei chums così molto random sempre potete fare quello che volete mezzi miei e mezzi comprati appostitamente per voi quindi se trovo qualcos'altro nel frattempo che va avanti il mese di questo giveaway ve lo prendo vi inserisco qualche qualcosa in altra di mio e io vi mando un grosso bacio mi raccomando partecipate in tanti e ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao